E' un altro festival, quello della Gardesana, tanti gli ospiti, vediamo. La crisi, la povertà, la vita di disoccupati, sono questi i temi affrontati nel corso della terza serata della Gardesana, che si tiene a Desenzano del Garda fino al 5 settembre. La scrittrice Francesca Barra, intervistata da Giovanni Terzi, ha raccontato al pubblico presente il suo reportage tra le persone che vivono in condizioni disperate, senza casa, senza lavoro. Questo, credo che sia fondamentale, cercare in ogni modo di rendere il più normale possibile l'esistenza degli individui. Spazio poi al giornalista Giuseppe Di Piazza, con il suo viaggio attraverso i sette vizi capitali dell'Italia di oggi, dall'accidia alla gola, dall'invidia all'ira, un racconto fatto di parole e di immagini. Ed infine Giuseppe Anastasi, che nell'angolo musicale della serata, insieme all'autore Alfredo Rapetti, figlio di Mogolle, al papà dello show di Giovanotti, Sergio Pappalettera, ha spiegato come nasce una canzone, dalle prime note fino alla copertina dell'album.